un saluto a tutti voi in ascolto io sono paolo e vi do il benvenuti anche oggi a l'italiano in podcast questo è l'episodio numero 413 di venerdì 28 gennaio 2022 siamo arrivati a venerdì anche o anche questa settimana ce l'abbiamo fatta abbiamo finito di lavorare beh almeno molti di noi anche per me il venerdì è un giorno che mette fine alla settimana di lavoro quindi per quanto riguarda il podcast ovviamente quindi domani si riposa con il podcast ma in realtà anche il sabato e la domenica ho sempre alcuni impegni anche se tutto è molto più facile molto più leggero ma in ogni caso si lavora però è un giorno di riposo per l'italiano in podcast e anche per ispeakitaliano.it vi ricordo che questo è l'indirizzo del mio blog in cui potete trovare l'italiano in podcast altri contenuti e anche un altro podcast che è quello con gli articoli del mio blog è la puntata del venerdì ma prima di iniziare in fine settimana dobbiamo lavorare io devo parlare come ogni giorno e infatti sono qui davanti al mio microfono di mattina presto molto presto e invece voi potete stare comodi a casa vostra o nel posto preferito e ascoltare questo è il vostro lavoro il vostro è il lavoro di ascolto e di comprensione quindi anche oggi questo podcast la mia voce il mio microfono e i miei computer sono a vostra disposizione per questo nuovo episodio per questa nuova puntata che è sempre lo stesso scopo quello di aiutare tutti voi che studiate l'italiano a migliorare con l'uso e con la comprensione anche della lingua quindi anche oggi vi faccio compagnia per questi pochi minuti più o meno 30 di solito e vi racconto qualcosa della mia giornata mi do qualche mio pensiero e poi vi parlo un po del paese di quello che stiamo combinando qui in italia non solo con questo covid 19 ma anche con altre piccole notizie che riguardano appunto la vita in generale dell'italia e la vita in italia quindi anche oggi direi che siamo pronti per iniziare questo nostro lavoro ma prima prima il consiglio di sempre cercate un posto tranquillo un bel posto che vi piace molto io ho il mio posto preferito ormai e quello il posto ideale per fare l'ascolto e per fare la lettura scegliete il vostro e quando siete lì mettetevi comodi cercate di aprire bene le vostre orecchie entrare in sintonia con la mia voce e a quel punto rubate da me tutto l'italiano possibile cercate di imparare parole nuove cercate di notare delle espressioni particolari ma soprattutto cercate di capire quello che dico il senso delle mie parole il senso del mio discorso e se qualche piccola parte sfugge non vi preoccupate non è la fine del mondo alla fine dell'ascolto alla fine dell'episodio tornate un po indietro ascoltate un po meglio cercate il significato e vedrete che quella parola quel modo di dire quell'espressione entrerà nella vostra lingua italiana quindi nel vostro modo di parlare italiano molto presto questo il mio consiglio come sempre quindi direi bando alle ciance bando alle chiacchiere iniziamo pure questo nuovo episodio dell'italiano in podcast bene posso dire che anche questo venerdì anche questa giornata è stata molto rilassante molto tranquilla e abbastanza impegnata quindi un buon equilibrio anche oggi tutta questa settimana devo dire che è stata piacevole molto piacevole tutto è filato via liscio come l'olio questa è un'altra espressione liscio come l'olio quando qualcosa va molto bene va senza imprevisti senza troppe complicazioni e quindi anche il venerdì è filato via liscio come l'olio anche se filato via vuol dire è passato no filare è un verbo che usiamo in molte situazioni in molte espressioni in questo caso significa un po passare quindi filato via è passato questo venerdì liscio come l'olio quindi molto molto facilmente e l'unica cosa un po diversa rispetto agli altri giorni e forse proprio il tempo le temperature sono state sempre uguali abbastanza fredde ma il cielo è stato un po coperto anzi molto coperto e addirittura alla fine della giornata durante la serata c'è stata della pioggia ma niente di che niente di troppo serio davvero niente di fastidioso poche gocce per circa 30 minuti davvero nessun problema quindi la giornata è stata buona il tempo un po meno bello poco sole e è stata anche produttiva un venerdì che direi è promosso come tutta la settimana a pieni voti cioè davvero con buoni risultati è iniziata come sempre presto al mattino con il podcast anche ieri ho registrato al mattino il mio podcast il nostro podcast quotidiano e però durante la mattina non avevo impegni con lezioni quindi non c'era nessun amico con con cui parlare prima del pomeriggio questo mi ha dato tempo di sistemare alcune cose in sospeso delle cose che dovevo fare per esempio sistemare un po gli episodi del podcast su youtube ma anche dare un'occhiata ad altre cose non ho fatto in tempo a registrare un nuovo audio del mio articolo di giorgio gabber lo farò nel fine settimana perché voglio pubblicare questo articolo anche sul sul podcast del blog quello con tutti gli articoli vi invito ad ascoltarlo perché beh giorgio gabber è un personaggio interessante molto molto interessante e anche perché credo sia un buon esercizio anche quello avete anche i testi in quel caso quindi potete leggere e ascoltare la mia voce che legge questo articolo quel podcast è un po sottovalutato ma io credo che dovete provare ad ascoltare anche quello lo trovate sempre su tutte le piattaforme e anche sul mio blog quindi ieri mattina non sono riuscito a sistemare questo questo audio dell'articolo però ho fatto tante altre cose piccole cose diciamo rispondere a qualche mail preparare qualche documento qualche piccola ricerca sistemare anche cose molto stupide come il sistema di pagamento delle mie bollette del telefono ho scoperto dopo due mesi che ancora non avevano cambiato il mio sistema di pagamento ho chiesto due mesi fa di fare questo cambiamento ma ancora non hanno fatto niente e non mi hanno neanche avvisato questa procedura non era andata a buon fine cioè era stata bloccata ma nessuno mi ha detto nulla mi chiamano tre quattro volte al giorno per farmi pubblicità inutili visto che sono già loro cliente ma non mi chiamano per le cose importanti sono sicuro che queste compagnie sono uguali in tutto il mondo ma è una cosa davvero fastidiosa quindi questo è stata è stato il lavoro della mattina anche qualche piccola commissione fuori casa la mia colazione come sempre anche che è importante non ho mangiato un cornetto vegano oggi ma un cornetto all'arancia e anche questo mi piace molto comunque mattina facile leggera ma ancora con diverse cose da fare dopo aver sistemato tutte queste cose ho fatto un pranzo veloce pranzato molto velocemente perché mi mancava il mio posto preferito questa settimana è stata molto molto produttiva ma sono uscito poco però non sono andato a correre per i problemi alla gamba mi fa ancora un po male ma domenica mattina proverò a correre di nuovo e tutta la produttività ovviamente ha sacrificato la parte fuori all'aperto infatti sono uscito ma meno del solito sono uscito abbastanza ma non ho avuto molto tempo per fermarmi in questi posti che mi piacciono leggere un po infatti ho letto molto poco tutti e due i miei libri in questo momento uno in italiano in inglese c'è anche un terzo libro di inglese con cui lavoro ma questa settimana non ho avuto troppo tempo per questo recupererò nel fine settimana leggerò un po di più domenica voglio godermi un po di tempo molto più tempo all'aperto e quindi anche oggi avevo poco tempo ma prima di iniziare le lezioni del pomeriggio ma volevo godermi un po di tempo all'aperto in questi posti che mi piacciono per questo ho mangiato velocemente e sono uscito per una bella passeggiata di circa 50 minuti avevo anche un altro impegno dall'inizio del pomeriggio uno dei miei amici una delle persone che devono lavorare nella mia casa doveva venire qui da me avevamo un appuntamento con con lui e con mio fratello perché dovevamo discutere alcune cose che riguardano appunto l'inizio di questi lavori e alcuni lavori preliminari cioè da fare prima di questi lavori più importanti proprio per preparare questi lavori la chiacchierata è stata davvero utile e produttiva direi mi ha dato un po più di serenità è un lavoro lungo però la notizia buona insomma che possiamo organizzarci bene con molta calma quindi non ho fretta di fare alcune cose come svuotare la casa posso insomma avere il mio tempo e continuare a lavorare con serenità diciamo questo mi ha fatto ovviamente molto piacere ed è stato molto positivo un incontro anche questo molto molto positivo sembra che in questa settimana molte cose siano andate al loro posto con un po di pazienza e un po di tranquillità bene dopo questo incontro è iniziato il mio scusate il mio pomeriggio e la mia serata di lezioni non troppe oggi ne ho avute quattro in totale abbastanza per un pomeriggio e tutte quattro molto piacevoli con persone che conosco da molto tempo e con cui mi piace molto chiacchierare ho iniziato con michael alle quattro del pomeriggio sempre divertente poi dopo continuato con rob con una dopo una piccola pausa in mezzo e poi una pausa un po più lunga in cui sono uscito perché avevo voglia di schifezze anche se venerdì sono andato nella mia baraceria preferita a comprare un hamburger è il posto preferito per me in cui comprare l'hamburger mi piace come lo fanno questo dimostra ancora una volta che il cornetto vegano è solo perché lo mangio solo perché è più buono del cornetto normale non mangio troppa carne a dire la verità nella mia settimana però si mangia mangia la carne quindi non sono vegano ma mi piacciono molto i cornetti vegani e non uso e non mangio troppa carne di solito quindi mi sono gustato questo buon hamburger prima di cominciare la mia lezione con emi dopo cena e dopo una bella pausa è arrivato il momento di josh per chiudere la giornata prima del mio hamburger c'è stata anche una bella improvvisa improvvisata senza preavviso telefonata di j quindi la giornata è stata davvero molto molto piacevole e ha avuto delle pause anche molto simpatiche questo è il riassunto del mio venerdì 28 gennaio che mi è piaciuto molto come tutti gli altri giorni della settimana ad eccezione solo del lunedì forse che non è stata una brutta giornata è stata solo con una giornata con meno meno carica meno grinta tutte le altre sono state davvero giornate con buon umore con buona energia e con come dire una sensazione di tranquillità e di e di calma molto molto belle e sono state anche molto produttive ho fatto molte lezioni ho fatto molte cose per il blog ho fatto il podcast mi pare dei buoni podcast ma questo lo potete dire solo voi quindi questa settimana assolutamente approvata e a pieni voti insomma promossa con pieni voti vediamo invece come è andato questo venerdì in italia per il resto dell'italia o almeno in queste poche notizie che fra poco vi vi do e queste poche notizie che sono a disposizione sui giornali non sono molte in questi giorni si parla di poche cose ma sono ci sono oggi un buon numero di cose da raccontare bene ovviamente il quirinale la presidenza della repubblica so che ormai questo è diventato come una specie di telenovela quindi qualcosa che vi appassiona siamo arrivati alla sesta votazione e ho scoperto una cosa che non sapevo un'altra cosa che non sapevo da oggi hanno cominciato a votare scusate da oggi hanno cominciato a votare due volte al giorno quindi oggi abbiamo avuto due votazioni non una e indovinate un po in tutte e due le votazioni fumata nera quindi nessun nuovo nome nessuna elezione molte schede bianche molte schede votate per personaggi impossibili però il re della giornata è stato mattarella che ha ottenuto più di 300 voti nell'ultima nell'ultima votazione ovviamente questo non è un'ipotesi possibile questo è ormai chiaro e questo è stato un modo insomma di di non votare nessuno votare per mattarella però adesso devono stare attenti perché se troppe persone fanno questa hanno questo pensiero c'è il rischio che poi elegano davvero mattarella c'è un film divertente su una cosa simile a questa in una delle votazioni per la presidenza della repubblica come per scherzo per giocare moltissimi deputati e senatori moltissimi grandi elettori votano un nome storico adesso non ricordo quale quale fosse credo garibaldi non mi ricordo però questo questa idea è venuta a troppe persone è venuta alla maggioranza del parlamento e poi hanno scoperto che questo nome era il nome di un cittadino italiano in vita quindi un vero cittadino italiano contemporaneo e hanno eletto questo cittadino perché come vi ho detto a parte alcuni requisiti di età mi pare e poco altro tutte le persone in teoria possono essere il presidente della repubblica bene questo cittadino a un certo punto si è trovato ad essere presidente della repubblica senza volerlo questo potrebbe accadere un'altra una volta davvero insomma se continuano a votare dei nomi che non sono possibili per un errore insomma molti di loro potrebbero fare la stessa cosa e alla fine leggere un presidente che non ha nessuna intenzione di fare il presidente della repubblica il film si intitola benvenuto presidente il protagonista è il simpatico claudio bisio un attore un comico italiano molto molto famoso molto molto popolare se avete voglia provate a guardarlo in realtà ce ne sono due c'è anche un altro film che si intitola bentornato presidente quindi questa idea è andata bene e hanno proposto una seconda un secondo film comunque questa è la realtà e in questa realtà la situazione è che non c'è ancora accordo un'altra fumata nera quindi si parlava di un nome condiviso da salvini della lega e giuseppe conte del movimento 5 stelle il nome era quello della belloni una una elisabetta belloni è la è una donna che lavora al ministero degli esteri e si occupa dei servizi cioè quei servizi di sicurezza quei famosi servizi segreti di cui si parla sempre e ovviamente è una delle possibili scelte l'unica cosa che sembra certa davvero è l'accordo sul fatto che il prossimo presidente della repubblica anzi dovrei dire la prossima presidente della repubblica sarà una donna personalmente sono convinto di questo eleggeranno quasi certamente al 90 per cento una figura femminile per essere la prossima presidente della nostra repubblica scusate ma ancora devo capire quale parola usare ovviamente ci sarà come ho detto una discussione su questo ma la mia scelta è la presidente credo che questa sarà la scelta che faranno in questo caso ci sono altre due opzioni sulla sul tavolo come si dice una è marta cartabbia è una è l'attuale ministro della della giustizia italiano della giustizia italiana è un magistrato che ha avuto degli incarichi molto molto importanti è stata la prima presidente della cassazione donna della storia e poi c'è anche paola severino che è un'altra giurista famosa che ha fatto il ministro della giustizia nel passato e che che è stata molto apprezzata per questo è stata il ministro della giustizia di di un famoso presidente del consiglio che adesso mi sfugge ma è stato uno dei più importanti che ha riportato l'italia un po sulla strada giusta durante la crisi degli anni passati la crisi economica intorno al 2011 e 2012 e adesso davvero non ricordo il suo nome io so il suo nome ma è una cosa che in questo momento è sulla punta della mia lingua ma non vuole venire fuori questa è un'altra espressione sulla punta della lingua quando conoscete perfettamente un nome o una parola ma proprio non vi viene cioè non riuscite a ricordarla in quel momento è una cosa molto banale ma davvero non non viene non riesce ad arrivare nella nostra memoria in questo caso il presidente del consiglio di quel periodo Mario Monti ecco adesso mi sono ricordato Mario Monti Paola Severino è stato il ministro della giustizia nel governo di Mario Monti e anche in qualcuno successivo mi pare sì bene questi sono i tre nomi sul tavolo tre nomi di donne molto importanti del mondo della giustizia e della politica italiana ma io ho il mio nome è il nome di una donna e ho deciso di fare questo nome prima della prossima votazione perché ormai siamo vicini all'elezione fra poco quasi certamente arriverà un accordo quindi ho deciso di fare questa scommessa con me stesso e vi voglio come testimoni beh il prossimo presidente anzi la prossima presidente della repubblica italiana sarà secondo me Emma Bonino è una donna che in politica da moltissimo tempo è stata è nel partito radicale italiano è stata al centro di campagne molto importanti del passato per cambiare alcune leggi tra le più importanti quella sul divorzio e quella sull'aborto è una donna che ha avuto molti incarichi in Europa anche all'ONU in Italia è stata in alcuni governi insomma sono abbastanza convinto che questo sia il nome che sceglieranno nel passato anche è stata come dire in gara per questo posto ma non lo ha ottenuto credo che questa volta sia il momento il suo momento quindi il nome che vi propongo io è quello di Emma Bonino e poi i fatti mi daranno torto o ragione e voi mi siete testimoni con la presidenza della repubblica è tutto qui per oggi probabilmente nel prossimo episodio è possibile che io vi dica il nome del nuovo presidente ma a quel punto voi conoscerete già questo nome una notizia un po brutta di oggi invece a parte queste nella presidenza della repubblica riguarda giuliano ferrara un giornalista con moltissimi anni di esperienza un giornalista più o meno schierato nella parte di centrodestra politicamente molto vicino a berlusconi negli anni passati un giornalista che ha una lunga carriera che purtroppo è stato colpito da un un infarto ed è stato operato con molta urgenza le sue condizioni sono ancora critiche ma sembra che con con il riposo e con alcuni giorni di ospedale abbia ottime possibilità ovviamente peterro aggiornati anche su questo è un giornalista spesso al centro di polemiche in italia un giornalista abbastanza come dire schierato ma anche dalle idee molto forti ecco un giornalista che ha sempre detto la sua opinione in modo molto forte non sono quasi mai d'accordo con lui ma ovviamente mi dispiace per questo suo problema e spero davvero che riesca a superare questa crisi in ogni caso come vi ho detto nei prossimi giorni vi terrò aggiornati un'altra brutta notizia una doccia fredda per berrettini il nostro tennista più dotato più più bravo in questo momento è stato battuto da nadal agli open d'australia quindi non andrà in finale si ferma alla semifinale e deve aspettare ancora un po' per ottenere i successi che merita l'espressione una doccia fredda è anche molto buona si usa in questi casi e quando c'è un po' di entusiasmo di come dire di speranza per qualcosa di bello da realizzare ma arriva purtroppo una brutta notizia come una sconfitta e questa è un po' una doccia fredda che ci fa raffreddare ecco raffredda l'entusiasmo quindi usiamo spesso questa questa metafora per dire cose come queste quindi una doccia fredda per berrettini dobbiamo aspettare ancora per vederlo alzare un trofeo del grande slam un trofeo importante il meteo il meteo dei prossimi giorni del fine settimana c'è un anticiclone quindi bel tempo ma sono è l'arrivo del freddo dal nord il 29 il 30 il 31 in italia hanno un nome particolare vengono definiti i giorni della merla secondo qualcuno sono i giorni più freddi dell'anno e quindi nei prossimi giorni dopo l'anticiclone ci aspettiamo l'arrivo di questo freddo vi parlerò un po di più di questi giorni della merla nel prossimo episodio forse forse vi racconto quale può essere l'origine di questa espressione anche se non è chiara ma magari vi do qualche idea su sul motivo per cui questi tre giorni sono vengono chiamati i giorni della merla e se è vero no che sono i giorni più freddi dell'anno qualcuno sostiene di no tutto qui per quanto riguarda le notizie non covid vi ho dato anche una previsione dell'elezione quindi oggi una puntata molto molto importante una puntata del venerdì molto ricca diamo un'occhiata al bollettino e poi con l'aforisma ci salutiamo alla fine continua ad essere stabile la situazione il numero più alto è quello dei morti non mi piace non piace a nessuno 378 sono le persone morte oggi a causa del covid 144 mila praticamente nuovi positivi quindi un tasso di positività al 13,7 per cento ieri era il 15 altri 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 dati ci dicono che forse è iniziata la fase di discesa della curva pensate che abbiamo somministrato somministrato scusate questa mia pronuncia è colpa del dente 126 milioni di dosi di vaccino tra prima seconda e terza dose insomma 126 milioni di dosi sono davvero tante e questo probabilmente ha reso questa quarta ondata meno forte delle altre ma comunque siamo ancora qui sull'onda un'onda che non è piacevole non è un'onda da surf ma speriamo che presto quest'onda diminuisca insomma perda la sua forza e ci faccia tornare a una situazione di normalità tutto qui per quanto riguarda il bollettino di oggi tutto qui per quanto riguarda le notizie in generale non ci resta che il nostro aforisma del giorno prima dei saluti bene qualche giorno fa vi ho proposto una idea un gioco quello di scegliere insieme l'aforisma del giorno ma vi ho proposto di inviarmi di mandarmi un vostro aforisma pensato da voi non scelto da voi tra aforismi famosi ma un aforisma pensato da voi anche nella vostra lingua quindi farò una piccola selezione ovviamente mi dispiace ma questo su questo sono sincero e possiamo modificare tradurre insieme questo aforisma e quando è pronto quando sarà pronto io lo leggerò durante un episodio del podcast è arrivata la seconda proposta subito dopo jonata ed è la proposta di angela il mio scambio di lingue bene quindi l'aforisma di oggi la frase celebre di una mia amica celebre è questa la pazienza risolve molti più problemi di quanto ci rendiamo conto un aforisma che mi piace da una persona molto paziente soprattutto col mio inglese quindi vi invito a seguire l'esempio di jonathan e angela e a mandarmi un messaggio con il vostro aforisma per oggi è tutto qui per questa settimana è tutto qui è arrivato il momento di dare inizio al fine settimana è arrivato il momento per l'italiano in podcast di chiudere per un giorno è arrivato per me il momento di riposare per un giorno riposare un po di più almeno quindi io vi do l'appuntamento a domenica per il prossimo episodio sabato mi riposo e vi ringrazio ancora una volta per avermi ascoltato vi ringrazio ancora una volta per aver sentito tutto quello che ho da dire che avevo da dire per il momento io vi saluto e ciao a tutti